Buongiorno, bentrovati. Appuntamento con Mattino 6 di giovedì 7 luglio 2016. Apriamo con il Santo del Giorno. Si tratta di Beato Benedetto XI, Papa della Chiesa Cattolica Niccolò di Boccasio. Questo il suo nome nacque nel 1240 a Treviso da una famiglia modesta, ma lo zio prete presso la Chiesa di Sant'Andrea della città natale può aver influenzato le sue scelte. Pare sia entrato nel 1257 nell'ordine domenicano, dove acquisì la normale cultura dei membri dell'ordine, completando poi gli studi teologici. Nel 1286 veniva eletto provinciale di Lombardia, la più potente e prestigiosa delle province domenicane. Dieci anni più tardi, nel 1296, ministro generale dei predicatori. Erano questi gli anni difficili seguiti all'abbicazione di Celestino V e all'elezione di Papa Bonifacio VIII. Quando nel 1297 scoppiò il conflitto aperto tra Papa Caetani e Cardinali Colonna, che contestavano la sua elezione, il generale dominicano si schierò nettamente a favore di Bonifacio. Venne scelto dal Papa insieme al generale dei Francescani. Per negoziare la pace, la sua personale fedeltà e l'abilità diplomatica, gli valsero la nomina a Cardinal Diacono di San Sabina nel 1298. Rientrato poi in Italia, dopo una parentesi in Ungheria, il futuro Papa era ad Anagni nel settembre del 1303, al momento dell'attentato contro Bonifacio, ma non pare essersi esposto in alcun modo. Morto poco dopo, Bonifacio, il generale dominicano, venne eletto Papa il 22 ottobre del 1303. La sua elezione, più che premiare meriti speciali, si poneva come scelta di compromesso. Privo di appoggi in curia, Benedetto XI cercò in qualche modo sostegno nelle grandi famiglie aristocratiche della sua terra di origine, il Veneto. Ma la sua debolezza si rivelò nella politica nei confronti della Francia. Fedele a Bonifacio non accettò infatti di reintegrare i cardinali Colonna nelle loro cariche, ma li assolse dalla scomunica. Benedetto XI è generalmente raffigurato nell'abito bianco e nero dei dominicani, spesso recante, gli attributi pontificali. Morì a Perugia, dove si era rifugiato, perché Roma era agitata, dato molti fomentati dai Colonna, il 7 luglio del 1304 e fu sepolto nella chiesa di San Domenico. Dunque il ricordo di Papa Benedetto XI, che viene ricordato oggi dalla chiesa cattolica. Noi apriamo la nostra consuetta la segna stampa, come sempre con le prime pagine del Quotidiano Il Centro. Partiamo dall'edizione di Pescara, l'apertura è purtroppo con il dramma accaduto ieri sera a Pescara, dopo le 19, muore mentre gioca in spiaggia Nicola Rabufo, conosciutissimo a Pescara, titolare dello stabilimento barneale Orsa Maggiore, stroncato da un malore a 55 anni. Lo vedete nella foto, ci sono stati i soccorsi immediati, le manovre rianimatorie praticate dai sanitari del 118, ma purtroppo per il titolare proprio del noto stabilimento balneare pescarese, non c'è stato nulla da fare. Poi in basso la cronaca, aggredisce l'amante del marito, una donna perseguita e minaccia l'amica, stop del giudice. Poi le cronache, la cronaca giudiziaria, cambio in tribunale a Pescara, Desiervo lascia la guida della procura adriatica e poi lo sporto, il nuovo portiere Bizzarri, presentato ieri, Pescara, la mia grande sfida. Andiamo a vedere ora la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano, Basto, poi come sempre, come di consueto, andremo a vedere anche le altre due edizioni di Teramo e l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Allora dopo l'edizione di Pescara, dopo la prima pagina dell'edizione di Pescara, tra qualche secondo vedremo l'edizione di Chieti del centro. A proposito dell'edizione del centro di Chieti, vi dico subito che quella di ieri è stata una giornata davvero negativa per il calcio lancianese, perché in serate è arrivato l'annuncio della famiglia Maio che oggi, ultimo giorno per l'iscrizione al campionato, appunto la proprietà Frentan non iscriverà la squadra. Vediamo comunque la prima pagina del centro, edizione di Chieti, troppo lavoro, la Sevel Shopper, attessa due giorni di stop, la Fiuma all'azienda, turni massacranti. E poi, come detto, come vi anticipavo qualche istante fa, Virtus Lanciano in liquidazione, stavolta è proprio finita. E poi la cronaca, un bacio gli costa tre anni, Chieti, avvocatessa, vittima, fa condannare un imprenditore. Poi le cronache, il dramma nella zona di Vasto San Salvo, padre pugnala, l'ex fidanzato della figlia. E poi a Chieti, legionella al Policlinico, la super bonifica dura tre notti. E siamo alla prima pagina del centro, edizione di Teramo. Poi, come detto, chiuderemo con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. La prima pagina dell'edizione di Teramo, del centro, si apre con, anche in questo caso, la cronaca giudiziaria per quei morti sono innocente, processo all'inglese che travolse con l'auto due pescatori, Vibratiani. E poi la politica, centro pagina, questa foto di Girolamo presenta la sua squadra, tutti del PD. E poi, in basso, Sanità, patto con l'Aquila, proposta del sindaco di Teramo Brucchi per non declassare i due ospedali. E poi le cronache, Teramo, Terra Nostra, chiesa a rischio di fida alla soprintendenza. E poi Martinsicuro, Nuova Rosa, vince la regata. Fra i quartieri. E chiudiamo, come detto, con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. Poi andremo a dare anche un'occhiata ai titoli dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola. Vedremo anche i giornali sportivi, visto che si sta chiudendo l'europeo. Dunque, un occhio particolare proprio a questa manifestazione. Ecco, la prima pagina del centro, edizione dell'Aquila. Sabotata l'auto del sindaco Cialente. L'Aquila, due bolloni di una ruota, sono stati svitati, altri due allentati. E poi all'Aquila il giorno del festival della partecipazione. E poi la cronaca a Castella Fiume. Carne non in regola, ristorante nel mirino del NAS. Poi l'Aquila, postina accacciata, non recapitava lettere e plieghi. Sulmona, stazione, zona fra degrado e sporcizia. Lasciamo dunque le prime pagine del quotidiano Il Centro. Abbiamo visto le quattro edizioni, ovviamente con gli argomenti principali. Andiamo a vedere dunque, come vi anticipavo, i titoli di alcuni dei quotidiani nazionali. Oggi in edicola possiamo partire dal Corriere della Sera, quotidiano di Milano, per vedere in questo caso la prima pagina. Eccola qui, banche, l'attacco di Renzi sugli aiuti segnali di apertura dall'Europa. E poi balzo del Monte dei Paschi di Siena, del titolo del Monte dei Paschi di Siena, in borsa. Poi questa storia che vediamo proprio in alto sul Corriere della Sera. Il profugo, fuggito da Boko Haram, ucciso da un ultra per difendere la sua famiglia. Vedete nella foto questa storia che è raccontata dal Corriere della Sera. E poi in basso, Messi e il papà condanna per evasione. Vedete in basso il titolo. Andiamo avanti, siamo al quotidiano La Repubblica. L'apertura è dedicata alla politica. NCD, una mina per il governo, infiltrazioni mafiose nell'Expo. NCD nell'occhio del ciclone per l'indagine che ha sfiorato, in un certo senso, il ministro degli interni Angelino Alfano. E poi nel secondo titolo l'inchiesta sempre di Milano, della procura milanese. Però su un'altra questione che riguarda presunte infiltrazioni mafiose all'Expo. Ci sono stati 11 arresti. E poi vedete anche su Repubblica difende la moglie dagli insulti razzisti. Profugo nigeriano ucciso da un ultra. E poi Monte dei Paschi. Renzi contro Berlino, colpa dei vostri derivati. Dunque ancora polemiche tra Renzi e l'Unione Europea. Un altro titolo che riguarda la politica. Iraq, politica internazionale. L'inchiesta in Chioda Blair, quella guerra. Era sbagliata. Andiamo avanti. Siamo al Fatto Quotidiano. Miracolo Expo. 11 arresti, mafia e soldi sporchi. Questo è uno dei titoli principali sul Fatto Quotidiano. Poi Pizza ordinava, Alfano eseguiva e non se ne va. Questo è il titolo che riguarda, come vi dicevo, questa inchiesta che sfiora, coinvolge indirettamente il Ministro degli Interni. L'assunzione del fratello, leggiamo sotto, scambiata con la nomina di Sarmi, legami della Cricca, con Carrai, Lotti e Carbone. Questo è il sottotitolo del quotidiano Il Fatto, proprio su questa inchiesta. E poi un profugo difende la moglie dei razzisti. Quelli lo ammazzano. Vedete anche in questo caso la foto con questo titolo di questo drammatico fatto di cronaca. Siamo al messaggero, la Cricca spiava le indagini, tangente al Ministero, la rete degli inquisiti per controllare gli affari e garantirsi protezione. Nuove accuse ad Alfano per favori e pressioni, il Ministro riuso politico, dice, di scarti d'inchiesta. E poi il ragazzo morto a Roma, rapinato e gettato in acqua, fermato un balordo del Tevere. Questa notizia che è stato scalpore proprio nelle ultime ore. Poi Monte dei Paschi crolla in borsa, aiuti di Stato in salita, il piano B del Governo. Proseguiamo il mattino di Napoli, pressioni e favori. Bufera sul Viminale, pizza intercettato, fondi al capo di gabinetto, lira di Alfano, scarti d'inchiesta. E poi un titolo che riguarda Berlusconi, che è uscito ieri dall'ospedale San Raffaele di Milano dopo l'operazione chirurgica a cuore aperto. Dice, ha detto l'esponente di Forza Italia, voglio essere ancora utile all'Italia. Andiamo ancora avanti. Il tempo di Roma. La papessa a Bemus giunta e Virginia imbavaglia la stampa. È stata completata la giunta comunale di Roma. Virginia sta per Virginia Raggi, il neosindaco della capitale del Movimento 5 Stelle. Poi l'inchiesta frutta, verdura e agromafie. E poi, vedete, tra i titoli del quotidiano del tempo, Sarmi ricompensato per l'assunzione del fratello di Alfano. Questo è il titolo che riguarda sempre l'inchiesta di Milano. E siamo al quotidiano, la stampa di Torino scoppia il caso, intercettazioni. Alfano dice, non lascio. E poi, un mese ai giochi, lira dei poliziotti. Siamo a Rio de Janeiro, dove tra meno di un mese ci saranno le Olimpiadi. E vedete la protesta dei poliziotti. E siamo al quotidiano libero, fuori dall'euro si sta meglio, senza moneta unica. E malgrado l'Unione Europea, la Svezia è cresciuta del 41%, quasi come l'Australia, con il 42%. Dunque, ci sono i conti che fa la Banca Mondiale, che in un certo senso confermano come, pur stando fuori dall'Europa, dall'Unione Monetaria. In questo caso, non è detto che non ci sia crescita. E poi, il Governo regala ai Borboni Expo, si parla dell'inchiesta di Milano. E poi, l'altra inchiesta, colpiscono Alfano, puntano a Renzi. Le intercettazioni rischiano di far cadere un altro esecutivo. Proseguiamo con l'Unità Lombardia Connection, la Piovra del Nord, 11 arresti in Lombardia per gli appalti ad Expo per presunte infiltrazioni mafiose. Greco, il magistrato che conduce le indagini, dice criminalità mafiosa ed economica. Sala, legalità, la battaglia, non si ferma. Sala era il presidente dell'Expo e oggi è sindaco. di Milano. Andiamo avanti, siamo al manifesto Family Day, Alfano nella bufera per le intercettazioni che tirano in ballo il fratello ed il padre. Le opposizioni, tranne Forza Italia, chiedono le dimissioni del ministro. E poi, tutte le bugie di Blair per attaccare l'Iraq. Proseguiamo, avvenire il quotidiano della conferenza episcopale italiana sull'obiezione Italia promossa in Europa, il Consiglio di Strasburgo, nessuna violazione. Poi era fuggito da Bokaram, ucciso a fermo da un ultra, questa notizia terribile che ritroviamo anche su Avvenire. E poi, italiani torturati e modulati dai cinque jadaisti. Si parla della strage di Dacca dove sono morti nove nostri connazionali. Siamo al quotidiano il Gazzettino di Venezia, così rilanceremo la Popolare di Vicenza. Lettera di Penati, leader di Atlante, discontinuità e trasparenza. Fusioni, prima completiamo la Polizia, Banca Popolare di Vicenza, che sta provvedendo ad una ristrutturazione importante. Poi i titoli, in questo caso di carattere nazionale. Bufera su Alfano, non lascio, dice il ministro. La fronda NCD minaccia la crisi. E poi Milano, le mani dei clan mafiosi sugli appalti dell'Expo. 11 arresti, vedete nella foto, nel tondo, il PM di Milano. Boccassini, siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Renzi rassicura i correntisti, dice nessun problema, la vera questione sono i derivati in Europa. NCD spaccato sul Premier. Alfano dice non mi dimetto, il PD lo blinda. Il quotidiano di Genova, il secolo XIX. Banche alleati, spine di Renzi. NCD si sfalda, maggioranza a rischio. Monte dei Paschi decide l'aumento di capitale. Poi sfuggito ai giadaisti, non all'ultra, ha ucciso questo giovane che difende la famiglia. Poi gli affari della mafia, tra Expo e Fiera di Milano. L'ultimo titolo, questo per quanto riguarda i giornali nazionali oggi in edicola. Andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi che sono oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Piacca sorpasso Milan, blizzi di Galliani a Zagabria. E dunque il Milan è vicino al giocatore croato. In alto, Cristiano Ronaldo si porta in finale, punta il pallone d'oro 2-0 dei Lusitani nella sfida con il Galles. E poi vediamo altri titoli. Inter, Suning vuole i giovani, Mancini chiede giocatori di esperienza. Poi la Juve mira al sesto scudetto, Di Bala via con il sorriso. 11 tifosi al raduno del Napoli, 0 allegria, mercato fermo. E poi riparte la Roma con Totti. Nainggolan annuncia, resto alla Roma. Siamo al Corriere dello Sport. Allegri vinciamo ancora, sesto scudetto di fila ai Champions League. Questo è l'obiettivo dei bianconeri. Inizia la stagione del Milan. In alto, l'Inter a Mancini, una squadra da Champions, parte l'assalto a Giorgio Mario. Poi Blitz del Milan, PH più vicino, vale 25 milioni. E poi richiamo agli europei, super gol di Ronaldo e Portogallo in finale. Battuto il Galles per 2-0, questa sera si giocherà un classico Germania-Francia. E chiudiamo con tutto sport, l'ultimo giornale sportivo che andiamo a vedere nella sua prima pagina. Cairo li vuole tutti, in alto si parla del Torino, del mercato del patron Granata. Poi Geni al lavoro, vedete Di Bala e Pjanic, parte la stagione bianconera. Poi Quadrado chiama la Juve. Il colombiano ha chiesto al Chelsea di non tornare, ora è tutto nelle mani di Conte. Poi vedete in basso, Ronaldo fa il fenomeno, Portogallo in finale. La vittoria dei portoghesi per 2-0 con il Galles. Abbiamo dato uno sguardo ai titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola, compresi quelli sportivi. Possiamo andare dunque a vedere le prime pagine di Cronaca d'Abruzzo, partendo dal centro. E poi, come sempre, intorno alle 7.20 ci sarà l'appuntamento con il nostro Giovanni De Palma. Subito il trasporto pubblico locale, il bilancio TUA va inutile, recuperati 12 milioni. Dunque, numeri positivi per l'azienda unica dei trasporti. Ieri c'è stata la presentazione proprio del bilancio di esercizio della TUA. Andiamo a vedere il servizio. Presidente D'Amico, oggi è una giornata importante per l'approvazione dell'esercizio di TUA. Quali sono le novità? I numeri cosa dicono? I numeri dicono che la fase di risanamento è ampiamente conclusa e che possiamo permetterci un grande rilancio, un programma di grande rilancio. Oggi lo illustreremo all'azionista e alla stampa con l'ospicio che possa essere approvato e che possa consentire a TUA di essere davvero un fattore di propulsione dello sviluppo della Regione. Sono anche però dei problemi che ovviamente voi state affrontando? Sicuramente i problemi sono tanti. L'azienda è estremamente complessa, è un'azienda che eroga l'80% del TPL regionale e che ha 1.600 dipendenti. Tuttavia, nonostante questi problemi, credo che ormai ci si possa permettere davvero la possibilità di pensare ad un progetto di grande sviluppo. Questa mattina c'è anche la protesta dei lavoratori dell'UGL e oggi c'è una giornata di sciopero proprio proclamata dall'UGL. Sì, l'UGL rappresenta circa il 3% del personale, non ha firmato il contratto di secondo livello. Io credo che sia un gesto di grave irresponsabilità non aver firmato il contratto e continuare a protestare su questioni che ormai sono ampiamente risolte. Il nostro obiettivo è risanare e sviluppare la società, non curare interessi particolaristici. Presidente, fra le problematiche da affrontare c'è anche quella dell'ordine pubblico sui pullman, sugli autobus. L'ultima aggressione è avvenuta poche ore fa sull'autobus Pescara Giulianova. Cosa può fare tua, cosa si potrebbe fare per far lavorare maggiore sicurezza ai dipendenti? Stiamo immaginando di far scortare i nostri pullman da personale di sicurezza e un atteggiamento intollerabile quello che è stato tenuto nei confronti del nostro autista a cui va non solo la nostra stima, la nostra grande stima, ma tutta la nostra solidarietà e in particolare l'impegno a che non si ripetano più questi episodi. Queste le dichiarazioni del Presidente, della tua D'Amico. Allora vediamo brevemente e velocissimamente le prime due pagine dell'inserto abruzzo del messaggero, poi parleremo di meteo. Prima pagina, sabotata l'auto di Cialente, è accaduto all'Aquila, rimosso alcuni bulloni dall'auto blu del sindaco. Poi vuoi mio marito, borte per gelosia l'amica del cuore, questa notizia che arriva da Pescara. Poi la mannoia, illumina la notte bianca, proprio che si terrà a Pescara nei prossimi giorni, ne parleremo più avanti con un servizio. E poi la seconda pagina di Cronaca regionale, centri di ricerca, vacilla, l'operazione per salvare gli stipendi. Poi tua, primo bilancio inutile dopo la fusione, abbiamo visto proprio l'intervista con il Presidente della tua, Luciano D'Amico. Come detto, apriamo la pagina del meteo, come sempre con il nostro Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, ieri mattina ci avevi preannunciato temporali, piogge nella nostra regione, così è stato nel pomeriggio, con temporali anche di forte intensità. Oggi, fortunatamente, almeno così sembra, da queste prime ore della giornata, sembra tornato il bel tempo, sembra essere di nuovo il sole a farla da padrone. Sì, Paolo, perché come avevamo già annunciato nella giornata ieri, l'instabilità avrebbe lasciato il posto a un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche già nella giornata odierna, perché l'alta pressione tornerà a espandersi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola, garantendo condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, anche sulla nostra regione, almeno fino alla metà probabilmente della prossima settimana, anche se ovviamente durante le ore centrali della giornata, nel corso del pomeriggio, non si escludono ancora degli addensamenti, soprattutto sulle zone interne e montuose, localmente associati a delle precipitazioni, ma che saranno per lo più localizzate sulle zone montuose, ma che si attenueranno in serata e in nottata. Non ci saranno problemi neanche nella giornata di domani, Paolo continuerà a splendere il sole sulla nostra regione, anche se per esempio stamattina ci sono dei banchi di nebbia nelle valli dell'Aquilano, in diradamento nelle prossime ore, le temperature sono previste in aumento, in graduale aumento, anche se non sarà almeno per il momento il caldo intenso. Il caldo intenso probabilmente lo avremo, soprattutto tra lunedì e mercoledì, perché arriverà anche parzialmente un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana, anche se fondamentalmente si tratta di alta azzorriana questa, la decilione delle azzorri che era una caratteristica massai frequente nel tempo degli anni 70 e degli anni 80, questa estate sta continuando, è tornata l'anticilione delle azzorri, anche se probabilmente avremo una temporanea di monta di un promontorio di alta pressione di matrice africana, soprattutto tra lunedì e mercoledì e questo potrà dar luogo anche a un ulteriore aumento delle temperature, con tassi di umidità in aumento lungo la fascia costiera e quindi quella sensazione di disagio che probabilmente il caldo porterà con sé. Ma ripeto, questo soprattutto nei primi giorni della prossima settimana, non ci saranno particolari novità, l'unica cosa da segnalare sarà l'instabilità possibile, soprattutto sulle zone montuose, nel fine settimana. Di questo lo dico a beneficio di coloro che volessero recarsi a fare le escursioni sui nostri rilievi, perché nel pomeriggio comunque potrebbe formarsi nel fine settimana, tra sabato e domenica, sempre nel corso del pomeriggio, degli addensamenti e dei rovesci pomeridiani. Poi gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici vedono un possibile peggioramento a partire da giovedì della prossima settimana. È chiaro che stiamo guardando al di là di quello che si può prevedere con i mezzi attuali, però la tendenza sembra verso un nuovo peggioramento o un aumento dell'instabilità e un caldo delle temperature proprio nel corso della metà del mese di luglio. Questa è una situazione che ovviamente ricontrolleremo e confermeremo nel corso dei prossimi aggiornamenti. Benissimo, grazie Giovanni, come sempre puntuale con le previsioni del tempo. Io ti ringrazio, appuntamento con te ovviamente domani nel corso come sempre di Mattino 6. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma. Vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org, utile strumento per rimanere sempre aggiornati, conoscere le previsioni in tempo reale, previsioni meteo che riguardano la nostra regione, poi la pagina Facebook del nostro meteorologo, ecco qui inquadrata anche un utile strumento per interagire con Giovanni De Palma. Noi dunque dopo la parentesi del meteo ci fermiamo per qualche istante, e poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, torniamo alla lettura dei nostri quotidiani, partiamo dal centro, cronache provinciali, partiamo da Pescara, questa tragedia avvenuta all'Orsa Maggiore ieri sera, Rabuffo muore giocando a beach volley, lo storico titolare dello stabilimento di Piazza Duca si è accasciato all'improvviso, a 55 anni lascia la moglie e due figli, e poi in basso Deservo lascia la guida della procura, importante incarico romano per il magistrato a Cristina Tedeschini, la reggenza dell'ufficio in attesa della nuova nomina. Per seguita ex amica per gelosia, donna sospetta una tresca di suo marito e minaccia la rivale con aggressioni verbali e fisiche, poi guardia costiera, la Milaglio Melone, ieri a Pescara, e poi ancora cronaca, residuo di pena, la polizia lo arresta ma lui si sente male in carcere a 68 anni. Proseguiamo l'evento dell'estate, la Notte Bianca in Riviera con musica e cibo di strada, a 10 km di lungomare si trasformeranno in una grande piazza lineare, concerti di Fiorella Mannoia, Paola Turci e Carotone, ci sarà anche Placido che declamerà Dante e D'Annunzio. E poi andiamo avanti, sanità, malati gravi, l'ospedale arriva a casa, come cambia l'assistenza, nuovo servizio della terapia del dolore con cure palliative a domicilio, 17 infermieri e 15 medici, anestesisti a disposizione. Poi c'è questo appello, questa storia, da 25 anni non posso curarmi in Abruzzo, l'appello di una donna affetta da una patologia che necessita di terapie costose fuori regione. Poi in basso un'altra storia, rovinato da un'ipoteca sbagliata, imprenditore indebitato e senza credito, parla di errore all'Agenzia delle Entrate. Poi torna la Coppa Cerbo e scattano i divieti, lo show da domani a domenica, tra verifiche e partenze delle auto d'epoca, saranno vietate alla circolazione quattro zone della città, da Piazza Duca fino all'antistadio, poi campioni dello sport, gara per beneficenza, organizzato allo stabilimento Penelope, dall'ex pilota di Formula 1, Vito Antonio Luzzi, due giorni fa vi avevamo proposto proprio un servizio su questa iniziativa. Proseguiamo, siamo alla pagina di Franca Villa dell'area metropolitana di Pescara, partiamo proprio dalla città adriatica, Mare Pulito a Franca Villa ha revocato l'ultimo divieto, i dati dell'Arta promuovono l'acqua anche nel tratto di Fosso San Lorenzo a Cepagatti, rondò bloccato via al cantiere a Villanova e poi Solidarietà Spoltore, un assegno per curare Federico, la festa dello sport, raccoglie 8 mila euro per l'intervento e poi a Pianella sfilata di carri funebri, domani la protesta contro la privatizzazione dei tre cimiteri. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Montesilvano, sempre dalle pagine del centro, il TAR, Palaroma ai privati, sì al bando del Comune, l'impianto conteso, scontro per la gestione, i giudici bocciano il ricorso presentato dall'ex gestore città di Montesilvano e poi De Martini e D'Alonso esultano, pronti a trovare un successore con nuovi canoni. E poi a Montesilvano spiaggia invasa dagli abusivi, sequestrati, 800 vestiti. E poi sempre a Montesilvano la zona del centro si mobilita per la sagra di Sant'Antonio. E siamo alla pagina ancora della provincia di Pescara, dell'area Vestina e dell'Alta Val Pescara, vicoli sott'acqua e fango, distrutti i campi coltivati, l'ondata di maltempo si abbatte proprio sull'area Vestina, danni anche a Pene Civitella. E poi la cronaca, anziano trovato morto in campagna, un malore per un uomo di 78 anni. E poi a Scafa domani l'inaugurazione del nuovo sottopasso e a Corvara via ai lavori, un anno dopo. La Frana, siamo alla pagina di Chieti, del centro, acqua vietata in ospedale Legionella, tre notti di super bonifica, coinvolti quasi 400 pazienti. La ASR fa distribuire a tutti bottiglie di minerale, piazzato un serbatoio per l'emergenza. E poi corsa al project financing, D'Alfonso Failbis, dopo Chieti nuovo ospedale. Anche a Vasto, in Basso, un bacio gli costa tre anni, Avvocatessa fa condannare imprenditore di San Buceto. E poi lavoro, Sevel, due giorni di sciopero, a Tessa, la Fiumma accusa l'azienda, qui lavoriamo troppo. Siamo alla pagina dell'Aquila, del centro, controlli del NAS, ristorante nel mirino dei Carabinieri, Castella Fiume è stata ordinata la sospensione dell'attività di preparazione e somministrazione del pesce crudo. E poi la cronaca, sabotata l'auto del sindaco Cialente. Alle ruote della vettura sarebbero stati allentati i bulloni, il diretto interessato non commenta. E poi in Basso, partorisce in casa, grazie a 118 e Croce Rossa, è accaduto a Carsoli. Il medico, siamo formati per interventi d'urgenza, ma è la prima volta che capita. E poi, tornando all'Aquila, lettere mai arrivate, licenziata, una postina. E siamo alla pagina di Teramo, sempre dalle pagine del quotidiano il centro. Tragedia sulla strada, mi spiace per i morti, ma sono innocente. In Aula, l'inglese, che ha travolto e ucciso due pescatori, tensione con i parenti delle vittime. Li hai ammazzati come cani. E poi, rissa in via del castello, litigano per un pagamento, volano insulti e pugni. Vediamo in Basso, Asso Turismo, Confesercenti, parla Grimi, Gianluca Grimi, che dice allarmismo inutile sulla stagione turistica. E poi, Teramano, premiato come miglior consulente di viaggio. Siamo arrivati all'inserto Aquiloni, alle pagine dello sport. Dunque, ripartiamo dal messaggero e poi dal quotidiano La Città di Teramo. Messaggero, pagina di Pescara, La Mannoia, star della notte. presentata la notte bianca dell'Adriatico, che si terrà a Pescara il 15 e 16 luglio. Riviere pedonalizzate, grande festa, 10 chilometri di maxi isola pedonale. Lungo la riviera, ieri la presentazione in conferenza stampa di questo grande evento. Andiamo a vedere il servizio. Torna questo appuntamento importantissimo. Noi l'abbiamo definito il capodanno d'estate dell'Adriatico. un grande appuntamento che riguarderà i 10 chilometri di riviera, che per l'occasione diventeranno una grande piazza lineare e pedonale, dove accadranno tante cose. Rispetto allo scorso anno ci sono grandissimi nomi. Fiorella Mannoia, Paola Turci, Tonino Carotone, Alex Neri, Michele Placido. Tanta musica, tanto intrattenimento, ma soprattutto anche nuove location, che determineranno una giornata di festa importante, non solo dal punto di vista del divertimento e dell'importanza dell'appuntamento, ma anche perché questa notte ha dimostrato lo scorso anno, con oltre 200 mila presenze, di riuscire a riattivare l'economia del turismo e soprattutto l'aumento del consumo registrato del 150%. Un'estate di grandi appuntamenti a Pescara, tra questi Assessore Santa Venere, il 16 luglio, cioè il Cost Day. Sì, il 16 luglio presenteremo il Cost Day all'interno del progetto Adriatic Plus, di cui il Comune di Pescara è capofila, un progetto quindi europeo sulla tutela e la biodiversità marina. Per noi è molto importante presentare ovviamente oggi alla città questo grande evento. Fiorella Mannoia sarà testimonial del Cost Day perché è artista sempre impegnata sull'ambiente, un'artista che ha sempre avuto attenzione su tematiche ambientali e soprattutto perché quest'anno dedicherà il suo tour a te, quindi a Lucio Dalla, che è stato colui che ha amato il mare e ce l'ha fatto mare. Quindi per noi è un grande orgoglio riuscire ad essere tutti insieme e vorrei quindi lanciare anche questo invito ad unirci a mezzogiorno del 16 lungo la costa con lo sguardo rivolto in mare, verso il mare, mano nella mano e lanciare davvero un Astag, uniti verso il mare. Siamo avanti ancora dalle pagine del Messaggero, la cronaca di Pescara stroncato da un malore in spiaggia, il titolare dell'Orsa Maggiore, questo il titolo, Nicola Rabuffo si è accasciato a terra mentre giocava a beach volley con gli amici e poi il parco di Rancitelli riapre tra le problemi che lotta al degrado in basso faro della Commissione Controllo Comunale sulle menze scolastiche. Offese botte alla rivale in amore, misura cautelare e profilo Facebook oscurato dalla polizia, una nota professionista sotto accusa per la catena di violenze. A marzo i primi messaggi intimidatori, sei una donna finita, poi l'aggressione all'interno dello studio e gli insulti via social. E poi arresto rinviato, malore alla vista degli agenti. E poi la Coppa Acerbo, strade chiuse a Pescara per tre giorni, ci sarà questa sfilata delle auto storiche. Poi maxipoteca sulla casa per un errore del fisco, un cittadino scopre per caso di essere debitore di 800 mila euro per un errore di persona. Siamo alla pagina della provincia di Pescara dell'area metropolitana. La favola bella dell'arbitro Elenito, due anni fa il tumore, stasera sarà assistente dell'arbitro Rizzoli in Germania-Francia. Davvero un bel traguardo per l'assistente abruzzese. E poi lo spettacolo della filosofia, cacciari tra gli ospiti delle serate di Francavilla. E poi Montesilvano, maxi sequestro all'ambulante abusivo. E poi sempre a Montesilvano, Foce e Argini, una cura ricostituente per il fiume. Poi per tornare a parlare di sanità, sanità civile, in questo caso cure palliative anche a domicilio. E siamo alla pagina dell'Aquila, del messaggero Cialente, sabotata l'auto, la Digos indaga sulla ruota senza bulloni. Poi Civici Uniti e Centrodestra d'accordo riferisca subito in Consiglio Comunale. Si parla di sospette pressioni, di presunte pressioni su un funzionario. Appello per l'Aquila che vogliamo, dicano quello che pensano i partiti, i suoi sostenitori e il vice Trifuoggi. E poi Polizia Addio, stanze separate, cabina di regia unica per quanto riguarda la Polizia stradale. Ieri la presentazione del nuovo progetto. E poi Puntellamenti, inchiesta BIS per quanto riguarda l'inchiesta Red Rationem. Andiamo avanti. Ancora l'Aquila, cibo, spettacoli, storie, 20 eventi al giorno sullo stare bene insieme. Da oggi a domenica il primo festival della partecipazione ci saranno Don Luigi Ciotti ed il patron di Slow Food, Petrini. E poi Comunità Montana, dipendenti licenziati la Will all'attacco. Gran Sasso, montagna proposte per tutti i gusti. E poi non consegna la posta, licenziata una postina all'Aquila. Ancora cronaca dal capoluogo di regione, mancata ricostruzione caseater, sit-in e vertice in prefettura. E poi Comune, caso stipendi, scontro, cioni, leone. Siamo alla pagina di Avezzano e Sulmona. Partiamo dalla Marsica, proprio da Avezzano, tribunale da salvare, vertice con i big. L'iniziativa è partita dal sindaco di Pangrazio, nonché dall'ordine forense. E poi ancora Avezzano, morte di Denise, il GIP, no all'archiviazione. A Sulmona, Magneti Marelli, verso l'accordo e sempre nella città ovidiana. Rogo nell'hotel degli immigrati, non fu un atto razzista. E poi Pescasseroli, palasport chiuso, il comitato vuole chiarezza. E poi Blitz De Nasse in un ristorante di Castella Fiume, ma nessun sequestro. Tornando ad Avezzano, riapre il centro trasfusionale, passo per la normalità. E siamo a Chieti, baci e palpeggiamenti. Tre anni ad un imprenditore di San Buceto, la denuncia di una avvocatessa. E poi operaio perseguitato, sciopero alle trafilerie. Andiamo ancora avanti. Se il servizio di vigilanza va a finire al Falegname. Siamo sempre in provincia di Chieti con questa storia. E poi la Corte di Cassazione dice Bellia e Michilli, condanne annullate. E poi in basso la storia quando il presunto spacciatore vince al Tar. Questa storia che arriva sempre da Chieti. Siamo alla cronaca di Lanciano-Vastortona. Partiamo da Lanciano, fuga di gas dalla centrale. Paura in città, il forte Sibilo dalla colonna è stato sentito a lunga distanza. E poi ancora a Lanciano, rapinavano gli anziani, condannato a due anni. A San Salvo invece giovane accoltellato. Si segue la pista, passionale. Nazionale, Vasto e Vase da Torresinello. Fuga finita per il Boss. E poi a Dortona, stabilimenti senza acqua. L'ira dei turisti a secco la spiaggia del Lido. Saraceni a Lanciano. Infine vedete a fondo pagina, in questo caso area del Sangro. Troppi straordinari alla Sevel. Scatta lo sciopero. E siamo alla pagina di Teramo. Del quotidiano in messaggero. Parentopoli alla Asle. Spunta la nomina del capo infermieri. E poi circonvallazione Ragusa. Partiti i lavori. Alla rotatoria. E poi c'è una lettera che pubblica il messaggero che riguarda la sanità, cardiochirurgia dell'ospedale Mazzini. E in sofferenza. E poi altre notizie che arrivano da Teramo. Orologio del Duomo e Sirena esposto in procura. E poi viabilità. Il PD dice via le strisce pedonali. A rischio. In piazza Garibaldi. E siamo alla pagina della provincia di Teramo. Partiamo da Roseto di Girolamo. Non posso sfasciare casa mia. Il sindaco presenta la nuova squadra composta da un monocolore del PD. In carichi chiave al vice Tacchetti. Andiamo dunque a vedere nel prossimo servizio proprio la presentazione della nuova giunta di Roseto degli Abruzzi. Quasi tre settimane per ufficializzare la propria giunta. Sabatino di Girolamo, sindaco di Roseto, ha avuto come primo banco di prova quello di gestire il delicato rapporto di apparentamento avvenuto con la lista Amoroseto, guidata da Giulio Cesare Sottanelli. Che proprio ieri, scoperto di non aver ottenuto nessuna poltrona, a mezzo comunicato stampa, ha espresso tutto il proprio dissenso e l'avvio di un divorzio con il PD targato Roseto che ha beneficiato, sottolinea, di ben 4.450 voti dell'ex avversario. Questo divorzio dispiace molto al sindaco di Roseto, eletto recentemente, perché il sindaco di Roseto voleva avviare un percorso di unità e un percorso di riappacificazione di tutte le anime del centro-sinistra rosetano. E' chiaro che questo obiettivo non poteva avvenire a discapito della stabilità di governo, cioè sconquassando il gruppo consigliare del PD, cui io ho il dovere, che io ho il dovere di mantenere unito. E' stato detto assenza totale di D'Alfonso a Roseto, non solo durante la campagna elettorale ma anche dopo la nomina. Lei ha mandato anche un messaggio al governatore D'Alfonso? Conto però che in futuro il nostro governatore voglia rispettare la volontà dei rosetani e quindi collaborare con il sindaco che i rosetani hanno con chiarezza scelto. Il primo lavoro del nuovo sindaco sarà quello del bilancio, la situazione come si preannuncia? Non ho avuto tempo ancora di rendermi conto dello stato del bilancio comunale. Questa è la prima cosa a cui metterò mano con l'aiuto del neoassessore Frattari, che è estremamente esperto in materia, per capire come sta il nostro bilancio. E' la condicio sine qua non per avviare quest'opera di conoscenza, per avviare un lavoro serio dedicato soprattutto alla manutenzione del territorio. Con quale criterio ha scelto i suoi assessori? Il criterio è stato quello di mischiare esperienza e gioventù innanzitutto e credo di esserci riuscito. L'entusiasmo dei novizi con quello di maggiore esperienza. Simone Tacchetti sarà vice sindaco con delega ai lavori pubblici, al lavoro e ai servizi cimiteriali. Poi Antonio Frattari delega al bilancio finanze e programmazione economica, commercio, patrimonio e polizia municipale. Nicola Petrini, assessore a manutenzione del territorio, ambiente, parco mezzi, anagrafe, servizi demografici e agricoltura. Luciana Di Bartolomeo, assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. E infine Carmela Bruscia, delegata a cultura e turismo. Restano nelle mani del sindaco di Girolamo le delega allo sport e all'urbanistica. Ancora cronaca dalla provincia di Teramo, Giulianova, ingenti danni provocati dal piromane e poi cambiando argomento, sempre nella cittadina giuliese, oltre 70 eventi per I Love Shopping. Andiamo avanti, li ha uccisi come cani, la rabbia dei familiari, processo per l'uomo che ha investito uccidendo due pescatori qualche mese fa. L'uomo si difende e dice sono innocente al 100%. E poi Giulianova, ospedale da 17 reparti, vertice del Partito Democratico. Siamo arrivati alle pagine dello sport e dunque possiamo andare a vedere, prima di parlare appunto di sport, le pagine del quotidiano La Città di Teramo. Partiamo ovviamente dalla prima pagina. Non ricordo nulla, sono innocente, questo è il titolo principale che riguarda proprio il processo che si sta tenendo per la morte dei due pescatori di Tortoreto, travolti ed uccisi da un auto in corsa. E poi abbiamo visto proprio pochi secondi fa il servizio di Francesca Romana Testi sulla presentazione della nuova giunta di Roseto. Vedete la foto notizia a centro pagina. Andiamo avanti. Abruzzo, tu ha approvato il bilancio e nominato il nuovo CDA dell'Azienda Unica dei Trasporti. Avevamo ascoltato nella prima parte della nostra rassegna stampa il presidente della tua, Luciano D'Amico. Poi cronaca, il boss era scappato in Molise, arrestato il latitante Chierchia. In basso c'è il rischio di un nuovo sovrasfruttamento delle foreste. Appennino Ecosistema lancia l'allarme e la proposta porterebbe alla privatizzazione senza alcun controllo. Andiamo avanti. Due abruzzesi nella lista del faccendiere Pizza, Gianni Di Pietro e Guglielmo Boschetti, nell'informativa della finanza sul sistema informatico usato nella giustizia. Parliamo dell'inchiesta che riguarda Milano. L'abbiamo visto dalle pagine dei quotidiani nazionali che sta mettendo un po' a subbuglio la politica nazionale. E siamo alla pagina di Teramo. Minzolini non diffamò il manager Cretarola, l'ex direttore del Tg1 assolto per il servizio sulla società partecipata della provincia di Teramo. E poi Regione Muta, abbandonata l'avvertenza sugli esuberi alla mensa della ASL di Teramo. Poi in basso la cronaca, lite per l'affitto della stanza alla pensione. Il titolare chiede il saldo ad un anziano, il figlio interviene nel diverbio. E poi Moschea all'aperto, controlli partiti da scuola dopo il patatrac. La D'Alessandro cerca di giustificarsi nessun atto di intolleranza da parte nostra. Un tetto in plastica per salvare San Giuseppe. Teramo Nostra diffida la soprintendenza per i ritardi accumulati nell'intervento conservativo della Chiesa. E poi in basso Summer School, nuovo indirizzo comunicazione aziendale e commercio con la TSC. E poi proseguiamo ancora, cronaca dalla città di Teramo. Eliminate subito le strisce pedonali killer. Dopo la serie di investimenti, Teramo Cambia chiede al sindaco di cancellare l'attraversamento. Pericoloso, in basso, mobilità alternativa, ripristinato, il bike sharing, sistemate, bici e postazioni. Andiamo ancora avanti, pagina della provincia. Per Forlini anche l'endorsement di Pepe. L'assessore regionale dichiara la sua fiducia nel Presidente uscente in vista del rinnovo del CDA del Ruzzo. E poi mobilità. La Regione appalta tutti i progetti del Bike to Cost. Si tratta di 21 zone interessate da un investimento complessivo che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Proseguiamo, siamo alla pagina della Val Vibrata. Collins in aula a Teramo. Sono innocente. Iniziato il processo, l'abbiamo visto anche dalle pagine del centro del messaggero, a carico dell'inglese che ha travolto ed ucciso due pescatori. Cronaca, allarme invibrata per la truffa dello specchietto. E poi in basso, a Tortoreto, i comunisti presentano le urgenze al commissario. Roberto Celi lancia l'allarme sul piano regolatore sulla cultura e sulla viabilità. Siamo alla pagina di Giulianova Mosciano. Ancora problemi. Siamo a Giulianova in zona camping. Pista ciclabile sempre a pezzi. Ghiaia non rimossa e pulizia carente a nord. E poi maltempo. Pioggia e grandine. Giulianova in tilt in pochi minuti. E poi sempre Giulianova al via la serie di incontri sulla democrazia. Con il professor Di Marco e poi l'evento, la festa del mare a Giulianova. Grazie alla Wisp Teramana. In basso i residenti di via Parini assediati da Erba ed Incuria. E poi tutto pronto per la nuova edizione della notte dello shopping. Che si terrà sabato prossimo sempre a Giulianova. Siamo alla pagina di Silvi. A stagione iniziata è caos per ciclabile parcheggi. I nuovi stalli scontentano i commercianti. Mentre il passaggio della pista al villaggio sbarca in consiglio. In basso il WWF chiede più controlli per salvaguardare il parco marino durante l'estate. Ancora Roseto di Girolamo presenta la squadra di governo. Dopo giorni di incontri il sindaco scioglie le riserve sulla giunta e lancia una stoccata al presidente D'Alfonso. Lo abbiamo ascoltato pochi istanti fa nel servizio. Siamo alla pagina della cultura. Zeichen quella volta a Castelbasso. Il noto poeta scomparso martedì scorso a Roma. Lesse nel 2005 i suoi versi nel Borgo e se ne innamorò. Andiamo ancora avanti. Arriviamo alla pagina dello sport per quanto riguarda il quotidiano. La città Coppa Interamina a tutti i colori del mondo. Si ritrovano a Teramo le immagini più belle delle prime due giornate per questa 44esima edizione. Tanto spettacolo e tante persone ad assistere alle partite di questa 44esima edizione. Ancora avanti vedete le immagini fino ad arrivare alla pagina che riguarda il Teramo perché c'è una notizia per certi versi clamorosi dietro fronte. Infatti Di Paolo Antonio resta del Teramo. Sfuma infatti il passaggio al Pescara che prende solo Palestini in arrivo dai Biancazzurri, Carcalis ed Orlando. Dunque Di Paolo Antonio resta al Teramo, non passa al Pescara. Sarebbe comunque rimasto in prestito, almeno secondo quelle che erano le notizie dei giorni scorsi, ancora per un anno con i Biancorossi. E poi in basso di Massimo al Pescara, San Benedettese e Teramo si sfideranno per il prestito. Il giocatore che lo scorso anno era alla Juventus e ancora prima alla Vezzano passa al Pescara e potrebbe poi essere girato o ai marchigiani o alla formazione del patron Campitelli e con la pagina dello sport della città possiamo andare a vedere le pagine sportive del centro e del messaggero. Partiamo dal quotidiano Il Centro per vedere quali sono i titoli, quali sono le notizie che riguardano le nostre formazioni dopo aver ricordato che nell'europeo di calcio ci sono dei titoli che ovviamente non andiamo a vedere per questioni di tempo. ieri sera il Portogallo ha vinto per 2-0 la gara con il Galles e in finale affronterà la vincente di Germania-Francia che si giocherà questa sera. Parliamo del calcio di casa nostra, Pescara parte la caccia al bomber, i primi della lista sono Piniglia e Matri. Per la difesa l'obiettivo principale resta Gionberg e poi vedete nell'altra pagina Bizzarri, Pescara è la mia nuova scommessa, è stato presentato ieri il nuovo portiere della formazione Bianca Azzura. Noi con le nostre telecamere eravamo alla conferenza stampa che si è tenuta in serata. Andiamo ad ascoltare le prime parole del portiere argentino. Albano Bizzarri, a Pescara finalmente realtà, questa mattina le visite mediche, sei ufficialmente un giocatore del Pescara. Sì, ufficialmente un giocatore del Pescara, molto contento, molto illusionato per questa nuova avventura. Ha 39 anni ma con una gran voglia di metterti nuovamente in gioco. Sì, ancora non l'ho fatto, quindi sono 38, però sì, vengo da due stazioni molto positivi che per me mi hanno dato tanta satisfazione. Speriamo soltanto di poter ripetere e di giocare allo stesso livello che ho giocato l'anno scorso, quindi sono molto molto illusionato. Come è maturata questa trattativa? Sì, diciamo che è stata una trattativa corta perché nel stesso momento che io mi sono liberato del Chievo, la trattativa è stata molto corta, è stata una cosa voluta per entrambi le parti, quindi per quello è stata corta. Nel stesso momento che il Pescara mi ha fatto la proposta io l'ho accettata. Cosa ti ha convinto ad accettare Pescara? No, io so che ci sono stati della telefonata ovviamente, però so dell'entusiasmo della gente, so che la tifoseria è molto calda, so che la città si vive molto bene, quindi non ho pensato tanto in accettare questa possibilità. Speriamo che sia un anno pieno di satisfazione. Arrivi in una piazza, in una squadra che il prossimo anno, la prossima stagione lotterà per salvarsi. Sarà un campionato duro, ma Bizzarri è pronto? Certo che qui sarà pronto perché sono situazioni che io sono abituato a vivere, so che ci saranno un po' di squadra che lotteranno per l'esteso obiettivo che la salvezza e noi dobbiamo lottare con questa squadra. Sarà un campionato duro, però l'obiettivo è rimanere in Serie A e che il Pescara possa essere una squadra continua in Serie A e che non succeda come qualche anno fa dove si è stato soltanto un anno. Parliamo ora del Lanciano. Brutte notizie per il calcio frentano. Virtus messa in liquidazione. I Maio abbandonano una scelta sofferta e una sconfitta, dice la proprietà in un comunicato di un amato nella serata di ieri. Candeloro dice no, altro deferimento per i mancati pagamenti. Poi la rabbia dei tifosi sui social presi in giro, potevano fare chiarezza. E poi Maio, fine di una dinastia sportiva durata otto anni. Calcio di Lega Pro, Teramo fatta per Palestini, Carcalis e Orlando. Il Pescara molla di Paolo Antonio, abbiamo visto anche dalle pagine del Codidiano La Città. Poi Serie D, Caos a Chieti. Pomponi potrebbe lasciare, l'Aquila vicino a Cecchi. Avezzano, ecco Aquino. L'ultima pagina di sport del centro riguarda e apre con il calcio a 5. Montesilvano rinuncia alla Serie A. La squadra sul mercato è la seconda volta in tre anni che il club montesilvanese riparte dalle serie inferiori. Il tecnico Ricci potrebbe diventare allenatore della squadra del Real Dem neopromossa. In Serie A2, poi Basket Serie B. L'amatore acquista battaglia. Atletica, nuovo record stagionale della Di Cesare. E poi vedete in basso, Basket Serie A2. Allen debutta con Philadelphia. L'ex Roseto segna 10 punti all'esordio negli Stati Uniti. Sharks, ipotesi. Fulls e poi Volley. L'impavida conferma Simoni. Matricardi in prestito al Pineto. In basso, maratona estrema. Il testimonial sarà Ciccio Graziani. Mastro di casa conquista intanto il titolo italiano. Ultratrail a Subiaco. Podismo sabato prossimo si svolgerà la notturna di Scerne. E siamo alle pagine dello sport del messaggero Bizzarri. Salvezza si può. Parla il portiere del Pescara che abbiamo ascoltato pochi istanti fa. Mercato ora in pollice Ghiomber. Ma con Aieti non è finita. Manai, il biancazzurro nel destino. E poi il presidente Sebastiani apre ad Osvaldo. Non è impossibile. Ma ovviamente il giocatore argentino dovrà abbassare le pretese economiche. E poi nell'altra pagina. I Maio si arrendono. La Virtus non si iscrive. Calcio di Lega Pro. Di Paolo Antonio salta l'accordo tra Pescara e Teramo. E poi è Ganci. Il nuovo obiettivo dell'Aquila. Parliamo di Serie D. Ancora Serie D. L'Avezzano trova l'attaccante. E Aquino. E poi in basso. Basket di Serie B. Lì dopo le conferme arrivano gli acquisti. Battaglia il primo rinforzo dell'amatori Pescara. E poi la Coppa Interamina. La favola di Rosmarie. Dalla Coppa alla moda. Intanto sul campo dominano le squadre danesi. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6. Grazie come sempre per la vostra cortese e attenzione. Prossimo appuntamento informativo alle 14 con la prima edizione del TG6. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.